Avanti il secondo concorrente, dai Fernanda, su! Avanti il secondo concorrente! Vai, ecco, concorrente, concorrente, lo stesso! Catiuscia, Catiuscia, Catiuscia! Oh, ecco la bella Catiuscia! Applauso, dai, forza mia! Allora, vai Fernanda, cosa ti ho insegnato? Io non ci sono, vai, vai! Non lo so, dagli un bacino, così... No, è stato davvero, eh! Allora, chiedi come si chiama, da dove viene, cosa fa? Io sono Catiuscia e vengo da Terricciona! Buu, no, scherzi! Cosa fa nella vita? Lavora! Diciamo che sto lavorando, ma sto aspettando di meglio! Sto aspettando di meglio sul lavoro, benissimo! Il suo hobby qual è? Il suo hobby qual è? Il suo hobby qual è? Che ve lo chiede? Ma io faccio... Io sono il goppo, no? Allora, Fernanda, qual è il suo hobby? Qual è il suo hobby? Domandagelo! Qual è il tuo hobby? Fernanda! Domandagli questo! Allora, guarda, microfono davanti a te fai... Signorina, qual è il suo hobby? Vai! Signorina, qual è il suo hobby? Ovvio! Cantare! Ovvio, cantare! Allora, cosa ci farà ascoltare? Ascoltare? Sì, a 4 venti! Nessuno mi può giudicare! Nessuno mi può giudicare! Quindi... Quale parole c'hai il goppo? Le parole ci sono? Ma bravissimo, sempre il mio braccio sinistro, perché io sono un mancino! brava, 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 brava! Dunque, mentre leggio, ma o legge io o o legge tu? Un leggio si può avere? Grazie Marco! Grazissimo! Ecco qua! Abbiamo le parole... Fernanda, ora noi ascoltiamo l'esibizione che Katiuscia farà là, e tu andrai là a sedere a Katiuscia, vicino a Katiuscia, gli dai il microfono, aspetta c'è da trovare la... Fernanda, guarda, mentre Katiuscia si prepara, allora, tu mi farai compagnia, ok, per il proseguo della serata, e faremo così per tutti i concorrenti, va bene? Do you understand? Sa anche l'inglese! Do you understand? E lei? Sì! Parlez-vous francais? Speak in Deutsch? Le sa tutti! Allora, Fernanda, mi raccomando, Telepappardelle dov'è? Non vedo più... Telepappardelle è là, vedi? Quella è Telepappardelle, è una rete che va su Sky24, praticamente tu fai il canale 821, e ti vedi domani su Sky. Ce l'hai Sky? Sai cos'è Sky? Sì, cos'è Sky? Non lo sai! Lo sai? Sì, non lo so! Sky è un canale digitale... Digitale, maestro? Digitale, benissimo! Tu paghi un abbonamento e vedi la televisione, è come il Rai, vedi par condition. Sei pronta? Non c'è più cosa dire. Allora, allora, Fernanda, Fernanda, con nessuno mi può giudicare Katiuscia Belcari, vai! Presenta te, con nessuno mi può giudicare, gentile pubblico, guarda il pubblico, Telepappardelle, vai! Con nessuno! Mi può giudicare? Mi può giudicare! Canta! Canta! Katiuscia! Katiuscia! Eh! Vai! Dagli il microfono, Fernanda! Noi ci mettiamo ogni sparte, vai! Guarda, più a sedere, ti metti più a sedere, brava! Stami grande, Fernanda, perfetto! Cominciamo! Grazie a tutti. C'è già tanta gente che ce l'ha su come, chi lo sa perché, ognuno ha il diritto di vivere come può, questo la voglia mi piace e quella da noi, se sono tornata a te. Ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te, ed ho scelto te, se ho sbagliato un giorno ora ho capito che l'ho pagata cara la verità. Ed io ti chiedo scusa e sai perché, sa di casa qui la felicità, molto molto più di prima io t'averò, in contatto all'alto sei meglio tu. E ancora in avanti prometto che, quel che ho fatto più non farà mai più. Mi ha il diritto di vivere come può, questo la cosa mi piace e quella tra noi. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te, ed ho scelto te. Ti ho sbagliato un giorno ora ho capito che, non va neanche ancora la verità. E io ti chiedo scusa e sai perché, la vita da qui la felicità, molto molto più di prima io t'averò, in contatto all'alto sei meglio tu. E ancora in avanti prometto che, quel che ho fatto più non farà mai più.